Torna dal Contres Barone Ligia Virtus con la voglia di chiudere con dignità un'annata decisamente negativa e con l'eccellenza che è ormai lì a un passo. Ospite dei barcellonesi e il rotonda penultimo in piena bagarre per agguantare i play-out. Gara non indimenticabile, la prima occasione capita sulla testa di Flores che spedisce alto, poi i Lucani protestano per un contrasto in aria tra De Stefano e Moussa su cui l'arbitro sorvola. Ligia si fa vedere con un tiro da lontano di Dodaro che Gonzales respinge in tuffo e il portiere Lucano poi si oppone anche alla deviazione sotto misura di Silla. Due chance per i Lucani nella seconda parte del primo tempo, Silletti spala alle stelle dentro l'aria piccola e poi Cascione respinge in tuffo il raso terra di Chiavazzo al 38esimo. Ripresa senza sussulti degni di nota, Pastore chiude su Cucchiaro lanciato a rede, mentre sul fronte opposto c'è da registrare un colpo di testa alto di Valori che colpisce tutto solo dall'altezza del dischetto. Infine, innocuo destro di Perkovic che sancisce 1-0-0 che non serva alle residui speranze di DJ Virtus, non soddisfa la corsa play-out della rotonda e fa felice il città di Messina che può allungare sulla formazione lucana.